questo qua invece è un autolavaggio degli anni 40 non c'erano ancora dei spazzoloni questi giravano con la pressione dell'acqua il sapore usciva da qui il gestore ha detto la fotografia stava qua dietro e lo tiravate indietro a mano e poi fregava tutta mano la sagoma dimostra che le macchine erano tutte basse ecco che io qui e poi seguo davanti di qua Grazie. Oh, caspita. L'hanno fatto dimagrire perché all'inizio era grasso, adesso è così, hanno seguito la moda. Eh, perché forse grasso dava l'idea dell'opulenza, invece oggi la persona grassa dà l'immagine di una persona che non si è bene. E invece, eh sì, c'è tutto un giochino. Eh, quelli moderni questi qua. Che bello alto questo qui. E questi sono accompagnati dai vari degli altri che si spiegavano. Anche il periodo. Shell. Agip. Aspetti perché qua ci sono... E' una roba che loro decidono di buttare, non se ne facevano. Così è... anche per loro dovrebbe essere un tipo di... Aveva una storia. Tutto c'è una storia. No, non se ne fregavano tutti, no. Tutta la mia, tutto. Infatti ci sono dei pezzi che non si trovano più. Eh, appunto. Dovrebbe essere... Questo qua è rarissimo. Caspita. Del di là del valore affettivo, eh. Il tuo valore... Beh, storico. La storia attraverso gli oggetti. Infatti quello non l'ho mai visto. Qualcuno che la conosce, eh, perché... Però diventa... Eh... ...